ancora in auge ieri a Biceglie per la seconda serata di libri nel borgo antico manifestazione letteraria che unisce il fascino e la bellezza del centro storico alle conversazioni con affermati scrittori italiani. Notevole il riscontro e l'apprezzamento del pubblico che ha affollato le piazze ed i vicoli della città vecchia di Biceglie, perdendosi in un'atmosfera magica tra le conversazioni, i caratteristici stand delle case editrici ricavati nelle botteghe del borgo medievale e il book crossing per scambiare gratuitamente i libri. Tra gli autori di spicco di ieri l'archeologo e conduttore televisivo Valerio Massimo Manfredi che ha presentato Il mio nome è nessuno, l'oracolo. Sul palco di piazza Duomo è poi salito il noto giornalista Oliviero Bea con il suo Un cuore in fuga, incentrato sull'eroismo di Gino Bartali che nel 1943 salvò più di 800 ebrei trasportando documenti falsi nella propria bicicletta. Amore al proscenio con lo scrittore e sceneggiatore napoletano Diego De Silva e il volume Mancarsi, storia d'amore di due persone che si sfiorano senza incontrarsi mai. Chiusura della serata affidata alla conversazione con il giornalista bicegliese Lucio Palazzo ed il suo libro intitolato I semafori rossi non sono Dio, incentrato sulla vita di Gino Paoli. Quando ho trovato questa storia per caso se vuole ma insomma mi sono imbattuto in questa storia positiva, straordinariamente positiva, mi sono tirato un po' su ed è uno dei motivi per cui l'ho scritta, credo che chiunque venga a conoscenza e legga una storia di questo genere sia quasi costretto a tirarsi un po' su, motivi per tirarci giù ce ne abbiamo tanti, immagino che ci sia l'imbarazzo della scelta. È una storia positiva che rimanda dei valori molto positivi, lei l'ha definita generoso, generosità, non c'è solo quello, c'è la straordinaria solidarietà nei confronti dei più deboli, in questo caso gli ebrei, i partigiani, coloro che rischiavano la vita, c'è il coraggio perché è un coraggio fenomenale, questo ha rischiato la vita tutti i giorni, la sua e quella dei suoi familiari per aiutare sconosciuti, la Puglia conosco abbastanza bene, ma l'ho sempre chiamata le Puglie perché in realtà è una regione plurale, insomma se uno pensa che quello che ha in comune il Gargano con Santa Maria di Leuca non è tantissimo, potrebbero essere regioni separate o quasi da un certo punto di vista, giustamente stanno insieme ma al plurale e quindi le Puglie. Se non sappiamo chi eravamo non possiamo e quindi non ci ricordiamo, non abbiamo memoria di quello che è avvenuto prima di noi, sia fisicamente, e parlo del burgo antico, sia umanamente i nostri genitori, i nostri nonni, se non abbiamo memoria di quello che eravamo non possiamo sapere chi siamo e se non possiamo sapere chi siamo, quindi siamo senza identità, non possiamo prefigurarci nessun tipo di futuro. Ultima serata di libri nel borgo antico oggi domenica 31 agosto con Monsignor Lorenzo Leuzzi, il poeta e scrittore Davide Rondoni, l'editorialista del quotidiano Il Giornale Marcello Veneziani e il celebre critico d'arte Vittorio Sgarbi. Prima dei big però c'è spazio per un programma ricco e composito con 22 presentazioni a partire dalle 18, una conversazione ogni mezz'ora in quattro suggestive piazze del borgo antico.